Verrà smontata e trasferita presso il Museo Civico di Vibonati la tomba lapidea di epoca lucana rinvenuta nel 2022 in località San Giocondo e allocata all'esterno del monastero di San Francesco. A renderlo noto è lo stesso comune di Vibonati dopo che la vicenda aveva animato il dibattito politico all'epoca dei fatti. Su indicazione della soprintendenza il comune ha redatto infatti un progetto di restauro conservativo affidando all'archeologa di Ascea Caterina Cammarano i lavori di restauro e risanamento della tomba. Lo scorso 21 agosto il comune ha trasmesso tutto alla soprintendenza che il 18 settembre ha autorizzato il progetto consentendo il via ai lavori. Al momento la tomba è stata aperta senza a quanto pare rivelare grosse scoperte, si tratta per lo più di tegole e ornamenti che compongono il sepolcro. L'archeologa ha proceduto alla mappatura degli interventi a documentare con immagini le unità iconografiche nelle varie fasi del lavoro e all'esecuzione di sondaggi e campionature con dei prelievi anche per il riconoscimento dei materiali e dei prodotti applicati al fine della corretta formulazione di quelli da utilizzare. Appena saranno disponibili i risultati bisognerà attendere una nuova autorizzazione da parte della soprintendenza per procedere poi allo spostamento della tomba e alla sua conservazione all'interno del Museo Vicente Gerbase di Vibonati dove sarà allocata in un'apposita teca che verrà acquistata a questo scopo.